Buoni libro e borse di studio a rischio per 91.000 famiglie. A denunciarlo il Comune di Padova preoccupato per le nuove procedure con le quali le famiglie con redditi molto bassi, dai 10.600 ai 13.500 euro, dovranno inoltrare la richiesta di contributo per l'acquisto di libri e spese di frequenza, trasporto e mensa. La Regione infatti ha stabilito che le domande dovranno essere compilate via web e questo per molti nuclei familiari rappresenta un problema. Solo il 60,5% delle famiglie operaie infatti ha un pc in casa e quindi almeno il 40% avrà difficoltà a fare la domanda via web. Siccome sono famiglie con redditi bassi, si parla di 10.000, 12.000, 13.000 euro di reddito ISEE, certificato dai CAF, Questo significa che la Regione a parole sostiene le famiglie e nei fatti sta mettendo in atto burocrazie, meccanismi nuovi che nessuno conosce, che nessuno sapeva ci fossero sino a una settimana fa, attraverso le quali sicuramente molte famiglie economicamente meno ricche riusciranno ad avere nessun contributo. Secondo l'assessore i comuni saranno così costretti a farsi aiutare da soggetti esterni come i CAF per far compilare agli utenti la domanda via web in modo corretto, ma i costi di questi servizi non verranno rimborsati. C'è però anche un'altra novità che non piace, quella di aiutare solo le famiglie degli alunni che alle medie hanno una media dell'otto. La legge regionale si rifà la Costituzione e parla di sostegno al diritto allo studio. Allora io chiedo alla Regione di mettere tutti sullo stesso piano, di dare a tutti la possibilità di studiare. Poi se ha 500 mila euro, un milione per premiare i più bravi lo faccia, io sono d'accordo, voto a favore, ma solo dopo aver dato a ciascuno il minimo indispensabile per sostenere il diritto allo studio. Grazie a tutti.